Quando mi capita di guardare, di guardare il sole, non guardo che il sole, non guardo che il sole è tanto grande, non guardo che il sole è tanto grande, non guardo che il sole è tanto lucente, come è possibile che il Signore non ci sia, come è possibile che il Signore non ci sia, come è possibile che il Signore non ci sia. Bisogna credere che esiste il Signore, basta guardare il sole per capire, basta guardare il sole è tanto grande, non guardare il sole per capire. Grazie a tutti.